Io sono Pizzonia Lucia, presidente dell'associazione Clown Vip Vibbo, dove Vip sta per Viviamo in Positivo. La nostra associazione svolge attività di volontariato presso la struttura di Vibbo Valencia, quindi presso l'ospedale Iazzolino, tutte le domeniche e oltretutto andiamo anche in alcune RSA, insomma offriamo assistenza agli anziani. Oggi siamo qui per la nostra GNR, GNR sta per giornata del naso rosso, stiamo facendo queste attività che ci consentono di pubblicizzare la nostra associazione, sensibilizzare al volontariato e oltretutto fare raccoltafondi che ci permette di continuare con le nostre associazioni di volontariato. Grazie a tutti! Pelle sui piedi Sì, 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 foco di sì Sì, 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 sì Sì, 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 E allora proviamone uno bello bello, questo qua. Saluti da Hermes! Buonasera! Ciao! La Hermes ti prendi un'emozione! Una per te, una per te, una per te e una per te. Aspetta, aspetta. Prima loro. Allora, prima tiri tu. Niente! Palo! Prova tu! Niente! Palo! Niente! Palo! Prendi un'emozione, una mano per nome, trova il suo colore e che suono fa. Prendila per mano, seguila pian piano, senti come nasce e guarda dove va. Prendi un'emozione! Palo! Certo, Prendi un'emozione! Prendi un'emozione! Prendi un'emozione! Prendi un'emozione, chiamala per nome, prova il suo colore che se solo fa Prendila per mano, seguila per piano, senti come lascia e guarda dove va Prendi un'emozione Prendi forse solo perché cresci e con occhi sempre nuovi il mondo scoprirai Prendi un'emozione 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.